campionato provinciale master questa è la semifinale come vedete la sovraimpressione semifinale Benelli-Volponi Benelli-Alessio-Volponi-Manuel prima bocciata di Volponi fa due dal Magic Blue Bar semifinale campionato provinciale singolo master andiamo ora a Benelli si mette dietro al pallino quasi dietro al pallino comunque copre l'eventuale stacco della biglia adesso può l'avversario fare l'angolo del pallino volendo va di spinta via la bianca che simbola nel quadrante inferiore bene lì sponda laterale sponda alta si mette dietro al pallino stavolta davvero pari volponi sbaglia il tiro con l'ultimo prende il punto adesso Benelli ne ha due per completare la mano di gioco con la prima si avvicina e prende il punto ora la seconda riflette Benelli poi va di calcio nulla di fatto alla bocciata Alessio Benelli siamo due pari nessuna bocciata perché non ha chita pallino correttamente Benelli quindi posiziona il pallino nella brocca alta e adesso vediamo probabilmente cercherà di avvicinarsi al pallino il più possibile e infatti Volponi va di spinta via la bianca gioca molto d'appoggio Volponi tocca pallino quindi non stringe molto a punto ora Volponi può andare in mezzo tra la bianca e il pallino toccando la bianca riesce a mettersi bene va di spinta Alessio e allontana il pallino dalla rossa ora ora vediamo Volponi che ha il vantaggio di biglia cosa sceglie di fare va di spinta e questo è un bel tiro ne fa 6 tiro in verso sponda laterale sponda alta perde però il vantaggio di biglia adesso deve giocare l'ultimo di mano tenta di andare di calcio tocca appena il pallino non ho capito cosa voleva fare anche perché nel quadrante inferiore c'è una biglia di di benelli alla fine vediamo dovrebbero essere 4 infatti 2 biglie e alla bocciata ci va di nuovo benelli non ho capito 2 punti siamo a 8 pari ora Volponi benelli benelli del zapalino bene riflette Emanuele Volponi sulla giocata da fare poi alla fine si appoggia pallino per spingere via la bianca con risultato negativo non riesce nel suo intento perde la biglia di vantaggio con con la terza con la terza miglia di mano riesce a prendere il punto ora benelli miglia estremamente precisa rivediamo rivediamo vedete scivola verso il pallino si posiziona buona la direzione buona la forza un gran bel punto da parte di Alessio Benelli ora vediamo come risponde Volponi con l'ultima biglia di mano va di spinta ripeto gioca molto di appoggio alla fine una biglia per Benelli che va alla bocciata sul 10-8 per lui ricordo semifinale campionato provinciale singolo master Benelli Volponi Benelli ne fa 8 rivediamo torniamo in partita e vediamo che Volponi si appoggia a pallino ora Alessio Benelli con la terza biglia prende il punto tre biglie giocate da Benelli una soltanto da Volponi che va a vedere da vicino la situazione per decidere che tipo di tiro eseguire va di spinta però il pallino scivola in buca e quindi il punto rimane di Benelli di Benelli lui deve giocare la terza biglia di mano ne ha ancora uno di vantaggio vediamo vediamo come si gioca questa opportunità tocca pallino e mette spazio tra il pallino e la sua biglia come vedete il punteggio 18 a 8 per Benelli si mette in punto Alessio ora vediamo Manuel come risponde un disastro totale 4 punti 2 biglie per Benelli 22 a 8 e la bocciata Alessio Benelli Akita Pallino Benelli si appresta ad effettuare la bocciata e anche in questo caso ne fa 8 si porta a 30 a 8 invece Volponi sponda laterale questa è una giocata che gli riesce sempre bene è nel proseguio della mano che trova difficoltà intanto Benelli va allo stacco ne fa 2 si porta a 32 sempre a 8 Volponi ora Benelli ora Benelli questa è calato quindi non calata un po' la biglia verso il centro e più per il bigliardo che per la direzione data da Alessio questa volta cerca avendo capito la cosa fa un tiro diverso tocca la rossa si appoggia sul pallino le ha giocate tutte ora e invece Manuel Volponi ne ha 2 a disposizione che alla fine andrà con un tiro di spinta ad aprire in realtà ha pretto molto poco quasi nulla è rimasta comunque una biglia bianca in posizione non vicinissima e quindi il suo avversario sportivamente gli concede il punto va a 10 Volponi 32 ne ha Benelli semifinale campionato provinciale singolo master la bocciata è tagliata ma non ha sufficienza per battere più di un birillo 12 a 32 pallino invitante ma il vantaggio di cui dispone Benelli lo spinge ad effettuare un tiro diverso cioè a cercare di portare pallino e biglia a sponda alta il più attaccato è la sponda alta possibile la cosa gli riesce anche bene perché pallino tocca la sponda laterale poi va quasi attaccato alla biglia che Benelli ha utilizzato per effettuare il tiro ora Volponi si appoggia anche se con un po' di forza apre lo spazio ed in mezzo si può mettere tranquillamente Benelli Benelli non la direzione è benissimo ma il punto è fatto lo stesso ora Volponi vantaggio di biglia per Benelli in questa mano Volponi si appoggia pallino buona buona giocata di Benelli che si mette a punto con due biglie ora Volpone gioca l'ultima la sbaglia il gioco in alto è un po' un problema per Manuel Volpone 6, 3 biglie 6 di colore per Benelli che si porta a 38 e andrà anche alla bocciata Benelli che è quasi a metà del percorso, 38 si va in 80 quindi mancano 2 punti per essere a metà del punteggio necessario per vincere la partita e in questo caso qualificarsi per la finale ne fa 10 piove sul bagnato per Volpone 48 a 12 punteggio severissimo per Manuel Volpone che si mette vicino a pallino con una spinta leggera spinta tiro di spinta Benelli conquista il punto mette il pallino vicino alla buca buono il tiro di Volpone ora vediamo Alessio il pallino il pallino in buca ma il punto è suo uguale si mette bene vicino a pallino Volpone vediamo ora Benelli che prende il punto ma Volpone non riesce con l'ultima a riprendersi il punto e quindi alla bocciata di nuovo Benelli 48 e 2 50 a 12 per lui come sempre una preparazione non velocissima da parte di Benelli che ha a suo favore ha quello di essere un ragazzo di una correttezza esemplare oltre che di un'educazione esemplare un pizzichino lento ma molto meglio che certi atteggiamenti assolutamente indegni che si vedono a volte qui siamo di fronte a una persona ripeto di una correttezza e di un'educazione assolutamente esemplare Volpone cerca di prendere il punto un po' scoraggiato dal punteggio d'altronde lui ha vinto una gara provinciale di qualificazione e diciamo senza che nessuno si offenda insomma è un outsider non ti aspetti questo risultato questo non significa che se lo sia guadagnato in questo caso come vedete nel gioco alto è veramente in grandissima difficoltà rispetto ad un avversario che invece sul gioco alto stringe e ha costruito tutto il suo vantaggio lì Volpone cerca con dei tiri di appoggio ma anche in questo caso si prende il punto ma mai di precisione questo forse è un limite senza il forse è un limite importante Venegli va a conquistarsi il punto ora vediamo Volpone il punto non mi sembra preso e infatti 54 a 12 alla bocciata Benelli dal Magic Blue Bar campionato provinciale singolo master 2024 dal prossimo anno ci sarà un solo titolo di prima un solo titolo di seconda un solo titolo di terza quindi non ci sarà più il doppio titolo per la prima categoria si ritorna alla vecchia maniera questa volta va a vuoto ed è una rarità Benelli 54 a 12 Benelli che sicuramente farà parte quanto mi risulta della rappresentativa della Modena Bigliardo che parteciperà al campionato nazionale delle province di prima categoria campionato che si disputerà il 25 aprile intanto di rimessa di risorsa come si dice volponi volponi ne fa 8 si porta a 20 ora c'è da vedere per il punto il punto è rosso e quindi gioca Benelli 54 20 adesso io fa uno stacco ne fa 8 e qui rivediamo il replay la velocità più contenuta sono 8 62 e sempre più impegnativa e ardua l'impresa di volponi di poter tentare di arrivare in finale 62 20 un punteggio severissimo per il giocatore della polisportiva Castelmaggiore mentre invece Benelli Alessio è della squadra Equipe Charlotte 2 tocca la rossa e si appoggia sulla biglia bianca sul pallino con la biglia bianca Benelli ora vediamo Polponi per gli amici Fox oppure anche questa è un po' più cattiva la viperina non prende il punto gioca all'ultima di mano perde l'abilità di vantaggio anche in questo caso vediamo che va sponda laterale lunga sponda alta si mette a punto ma non vicino a pallino decisamente diciamo intorno ai 15-20 cm adesso io sono un po' lontano ma a occhio Benelli va di candela tiro con troppa forza e lascia il punto a Volponi che va alla bocciata e questa è già una notizia fino ad ora 62 a 22 non va alla bocciata perché non acchita correttamente pallino è praticamente uscito dal match Manuel di spinta Benelli 40 punti di vantaggio a 18 dalla meta ora Manuel al quale comunque va un plauso per la stagione ha vinto una gara provinciale di qualificazione e questo non è una roba da tutti i giorni si è piazzato ha superato i quarti di finale vincendo contro Tesei quindi a lui un bravo comunque anche se in questa partita quanto pare insomma non sta rispondendo come magari lui avrebbe voluto però ripeto giocando d'appoggio a certi livelli diventa faticoso e difficile riuscire a spuntarla comunque rimane comunque il risultato in una stagione assolutamente da incorniciare qui c'è un simpaticone che scrive un messaggio eccolo qua di nuovo scrive un messaggio assolutamente ineducato e questa persona difficilmente potrà rivedere la diretta con il suo profilo perché tutto c'è un limite e l'educazione è il minimo se non ti piace la pubblicità non guardare tanto è gratis nessuno ti obbliga a metterti davanti al telefonino o alla televisione o al tablet e guardare qualche stacco che ci permette di effettuare le dirette e di recuperare quantomeno le spese di trasferta se vuoi venire tu a farla gratis con la tua attrezzatura noi saremo ben lieti e non scriveremo mai una frase maleducata come quella che hai scritto tu torniamo le cose serie non ai fulminati 64 a 22 66 a 22 per Benelli colponi non si mette vicinissimo a pallino a proposito di fulminati vorrei si spendere ma proprio due parole io di recente sono stato ospite a Portorose della Federazione Italiana Sport, Biliardo e Bullying e da questa mia diciamo così gita qualche fulminato ma veramente fulminato di brutto è uscito dicendo che il nostro regolamento sarà associato a quello della federazione che saremo assorbiti dalla federazione tutto questo è frutto di una mente malata non è assolutamente vero è stato fatto ci sono stati degli incontri tra l'altro intanto ringrazio per l'ospitalità l'avvocato Mancino Loris De Cesari Migliozzi e Walter De Bortoli che è l'organizzatore della gara di Portorose per la squisitezza e la signorità con cui mi hanno accolto abbiamo parlato del biliardo abbiamo parlato di fare qualcosa insieme abbiamo parlato di fare delle iniziative anche comuni per avvicinare i giovani abbiamo parlato di categorie abbiamo iniziato un percorso di confronto per vedere di migliorare l'attività da entrambi i lati ma mantenendo ognuno la propria indipendenza e la propria libertà e i propri regolamenti questo è comunque ringrazio per l'ospitalità veramente amichevole di tutto lo staff dirigenziale della federazione italiana sport biliardo bullying a tale proposito loro saranno alcuni di loro spero tutti saranno ospiti del campionato nazionale in quel di Budrione di Carpi il 25 di aprile torniamo alla partita e vediamo che Volponi sgancia l'ultima e ancora una volta d'appoggio non riesce a prendere il punto 66 e 2 68 alla bocciata ci va Alessio Benelli per l'ennesima volta io credo che anzi sono sicuro che oltre alla bocciata da Chito abbia fatto il punto una volta sì perché ne ha fatti due di bocciata da Chito 6 di calcio forse due volte mentre invece Benelli è un diciamo così un continuo 68 alla bocciata Alessio Benelli Benelli vediamo un brillo nello scendere vediamo se nel salire frutta qualcos'altro no soltanto due e siamo comunque 70 a 22 ora Manuel che a questo punto è anche scoraggiato va di stacco sponda biglia passa vicino al biglino ma non lo abbatte quindi nulla di fatto ora Benelli pronto per effettuare il suo tiro alla fine alla fine sfaccio di volponi porta la biglia bianca nel quadrante inferiore due biglie rosse a punto pallino attaccato a sponda vediamo che Benelli ha osservato un po' più da vicino la situazione e adesso si appresta ad effettuare il tiro tiro non semplice infatti non gli riesce benissimo ma comunque porta il pallino nel quadrante inferiore adesso c'è da guardare di chi è il punto chiamano la misurazione il punto è bianco e quindi gioca volponi tagliata risalire tocca il pallino credo sia rimasto a cavallo della riga di mezzeria una biglia ciascuno però il punto è di volponi Benelli riflette sgancia la biglia si mette appunto anche se non vicinissimo a pallino vediamo ora il punto dovrebbe essere bianco vediamo volponi molto fair play tra i due e quindi quanto a correttezza anche volponi nulla da eccepire due biglia e quattro punti ci porta a 26 volponi e va la bocciata e anche stavolta qui è frutto della dello scoraggiamento proprio della frustrazione di questa partita che lo sta vedendo penalizzare regala in pratica la vittoria a Alessio che si qualifica per la finale vince Benelli Alessio di un'altra di un'altra di un'altra Grazie a tutti.